Buonasera, buonasera a tutti, buonasera al nostro pubblico, eccoci tornati, torniamo con la nostra trasmissione della web tv del Teatro Comunale di Bologna, l'ultima volta eravamo stati in compagnia di Emma Dante per la presentazione della Cenerentola, nel frattempo abbiamo fatto l'anteprima della stagione d'opera 2022, un bellissimo concerto, l'auditorium Manzoni con Oxana Liniv e abbiamo avuto un grande riscontro sia di pubblico che di critica, se ne è parlato molto sulle testate nazionali e internazionali, questo ci ha fatto molto piacere anche il lancio della nuova direttrice musicale con la quale faremo grandi progetti, già l'anteprima è stato un bellissimo concerto, un concerto importante con un programma impegnativo, il primo atto è la Valchiria di Wagner e lo stesso Strauss, insomma è stato un momento interessante anche per la città perché era da un po' di tempo che non vedevamo un teatro così pieno e così interessato. Dopo l'anteprima è il momento appunto della prima, partiamo quest'anno con Tosca, la stagione d'opera 2022 inaugura con questo grandissimo titolo di Puccini, un titolo che è una Tosca che è caratterizzata da due grandi firme, la prima è la firma alla regia di Ugo Deana, uno dei grandi maestri del teatro all'italiana, un regista che ha girato i palcoscenici di tutto il mondo e che ha fatto la storia del teatro all'italiana insieme a pochissime altre firme veramente importanti come Pierluigi Pizzi, Pieralli, Cobelli, insomma tutti i protagonisti tra l'altro anche di una stagione storica del teatro comunale e quindi il ritorno di Ugo Deana è molto importante anche perché è importante dare spazio anche alla scenografia, al teatro di regia e secondo me questa Tosca sarà molto da scoprire sotto questo aspetto. L'altra firma importante di questa produzione è il maestro Daniel Oren che oggi è qui ospite con noi e che diciamo è un altro pezzo della storia musicale di questo paese e un direttore d'orchestra che ha girato i palcoscenici, anche lui ha girato i palcoscenici di tutto il mondo e che qui a Bologna ha fatto un pezzo di storia importante. Lui inizia giovanissimo, israeliano, inizia però nella Germania, allora si chiamava Germania dell'Ovest e inizia già diciamo alla fine degli anni 70 e poi arriva in Italia e ci racconterà anche diciamo la sua carriera in Italia e inizia con Manolo Scò e subito dopo con Tosca, credo all'Opera di Roma e con diciamo una serie di titoli importanti, poi diventa uno dei protagonisti del festival dell'Arena di Verona e poi tutti i teatri italiani hanno ospitato Daniel Oren. Lui è diciamo uno dei pochi artisti che può vantare tra le sue direzioni, tra le sue collaborazioni appunto, grandi nomi da Luciano Pavarotti a Plasido Domingo per intenderci e molto importante ormai circa 25 anni fa è stata la sua ultima produzione fatta proprio qui al Teatro Comunale di Bologna ed è stata una fedora con Mirella Freni di cui spero ci racconterà nel proseguo della discussione. Daniel Oren tra l'altro è stato con noi in un momento importante della storia di questo teatro che noi speriamo non si ripeta più. Mi riferisco al lockdown dell'anno scorso, del 2021, quando abbiamo fatto una piccola stagione sinfonica in streaming offerta al nostro pubblico di YouTube al quale vi invito a scrivervi e troverete ancora la registrazione di quel bellissimo concerto fatto nella sala vuota, svuotata dalle poltrone del teatro con al centro l'orchestra e appunto il maestro Daniel Oren che diresse questo concerto. L'estratto riguarda il secondo movimento, la fine del secondo movimento della sinfonia di Tchaikovsky e sarà molto bello appunto vedere questo momento molto importante, un momento forte nella storia del teatro perché appunto allora si suonava esclusivamente per il teatro, per dare ancora vita alla musica in un momento in cui il pubblico era assente, è stato assente per molti anni e finalmente sta iniziando a tornare. Quindi vi lascio con questo piccolo estratto musicale del concerto e poi iniziamo la nostra chiacchierata. iniziamo la nostra chiacchierata. iniziamo la nostra chiacchierata. l' Towret共开zio l'Estr pittà l Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È stato un bellissimo concerto, molto visto sul nostro canale YouTube, al quale vi invitiamo ad iscrivervi e a seguirci con tutte le nostre pubblicazioni che abbiamo già fatto e che faremo in futuro. Ad accompagnare il maestro Oren in questo dialogo che faremo sulla Tosca e non solo abbiamo un amico e anche un giornalista molto noto a Bologna, ha fatto per tanti anni il capo redattore della sezione Cultura del resto del Carlino. Sarà un ospite fisso per le nostre puntate della web tv perché il teatro sta collaborando con Andrea su una diversa lettura per avvicinare ma anche per interessare di più il pubblico bolognese e non solo sulle varie produzioni d'opera che faremo quest'anno a partire da Tosca. E' a seguire. Sua sarà la redazione di una serie di saggi e di suoi altre interviste all'interno dei libretti di sala. Quindi siamo contenti di questa collaborazione e proprio con lui iniziamo proprio a intervistare, a fare questo dialogo col maestro Oren. Eccoli qua. Ciao Andrea. Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera. Grazie Maurizio. Allora intanto bentornato al teatro comunale maestro. Grazie, grazie. Abbiamo visto queste immagini che io ritengo estremamente emozionanti in un teatro vuoto, un concerto costretto dal covid nel teatro vuoto, con queste immagini molto suggestive. Ma l'emozione che ha provato il maestro sul podio in un teatro vuoto e le emozioni di tornare davanti al pubblico, ci sarà una differenza? Sì, c'è una grande differenza. Io all'inizio non ci credevo nello streaming e ci avevo anche molta paura perché mi sembrava all'inizio, secondo un po' quello che dicevano anche i politici, che lo streaming dovrebbe sostituire qualcosa di insostituibile che è la musica dal vivo, l'opera dal vivo e la musica dal vivo, perché non si può sostituire la musica dal vivo. Invece poi, questo è stato molto importante a un certo momento dove non si poteva fare altro, di fare lo streaming. Grazie a Dio stiamo tornando piano piano alla normalità e questa è una grande emozione. Questa è stata anche una grande emozione perché avendo l'orchestra nella sala, una grandissima orchestra, non è la stessa orchestra che ho incontrato tanti anni fa quando dirigevo tantissime opere qui, ma è un'orchestra favolosa, di grandissimo livello ed era un grande piacere fare, grande emozione fare sia il Dvozak con il nostro grandissimo Enrico Dindo, sia la Sinfonia di Tchaikovsky. Ecco, lei inaugura la stagione, la nuova stagione comunale con Tosca di Puccini e il suo legame con Puccini è un legame che parte qualche anno fa. Devo dire che io ho studiato a Berlino, non ho fatto il militare in Israele, in generale in Israele si fa militare a 18 anni di 3 anni. Ho cercato di spostarlo perché con mamma e papà abbiamo pensato che questo sarebbe veramente interrompere i studi per 3 anni sarebbe il disastro. Perciò attraverso il Dayan, se ve l'ho ricordato, Moshe Dayan, il grandissimo generale, non solo generale, ministro della difesa, ho potuto spostare il militare. E poi sono andato a Berlino, a Berlino si studiava, va bene, orchestra quasi non avevamo, c'è un pianoforte, qualcosa di genere. Opera zero completo, non lo so perché, ma non abbiamo mai fatto l'opera, quasi mai, magari un Mozart, essendo in Germania. Più di questo non conoscevo assolutamente, non abbiamo mai lavorato sicuramente non sul repertorio italiano, non interessava assolutamente. Poi dopo che ho vinto il premio Karajan sono arrivati tutti i concerti in Germania e fuori Germania. Uno dei primi concerti che faccio qui, naturalmente a Trieste, perché nella giuria c'era il grandissimo Barone de Banfield, che era amicissimo di Foncaria, e il mio primo concerto è a Trieste. Poi i prossimi impegni, un grandissimo impegno, era il mio debutto a Santa Cecilia. E a Santa Cecilia dove ho diretto, fra l'altro, la settima di Beethoven, è venuto Lanza Tomasi, che era il direttore artistico del teatro, e mi ha affidato questa Manon Lescaux di Puccini, dove io, disgraziatamente, non ho detto no. Perché? Come si può dire di sì a debutare, dopo che non hai fatto mai niente in vita tua, di opera? Sì, ma io ho detto di sì. Poi sono andato in Israele a fare i miei sei mesi di servizio militare, perché dovevo dare quei sei mesi, perché sono andato via da Israele a 18 anni, e in questi sei mesi ho avuto la fortuna anche di poter studiare la Manon Lescaux. E dopo sono arrivato a Roma, praticamente il mio debutto con Manon Lescaux, che non era facile, assolutamente non era facile. Comunque avevo la fortuna di conoscere la Raina Kabayvanska, che per me è una delle più grandi, grandi, grandi soprani del secolo, ma che non è venuta alle prime prove perché non sapeva chi è quel ragazzino che dirige, perciò dice, aspetterò, se va bene, va bene, se no non ci arrivo. E poi è nato questo sodalizio. Certo, con la Raina Kabayvanska, poi ha fatto la Tosca subito dopo? Poi la Tosca l'abbiamo fatto subito dopo, e avevo una grande, grande cast, veramente un grande cast, che era Verriano Lucchetti, che era una delle voci più belle, ma proprio se uno si immagina la voce all'italiana è quella di Verriano Lucchetti. Il colore della voce all'italiana era Verriano Lucchetti. E poi come baritono avevamo un grandissimo baritono, penso sconosciuto un po' a tutti, ma si chiamava Karin Urmela, che era un finlandese, ma faceva il personaggio di Scarpia come nessuno. E questo praticamente era il mio debutto della Tosca a Roma, e con grandissima compagnia di canto, che considero che per me è molto importante avere grandi cantanti, perché senza di loro nell'opera non possiamo fare nulla. Ho bisogno anche di avere dei musicisti e dei artisti che collaborano con te. Non succede sempre, ma succede, succede, perché la cosa bella è dare a loro, loro danno a te, ma anche tu dai a loro. Non è il semplicemente accompagnare i cantanti. Questo per me è odioso, assolutamente odioso. C'è uno scambio, e quando c'è lo scambio è la cosa più bella che può essere. E là c'è stato un grande scambio, devo dire. Comunque di Tosca lei appunto ne ha conosciute tante, no? Di Cavaradossi, di Scarpia. Come affronta questa Tosca del teatro comunale, musicalmente parlando? Ma io affronto questa Tosca, ma tutte le opere di Puccini affronto, o non solo di Puccini, cercando di immedesimarmi il più possibile quello che ha voluto il compositore. Cioè, io cerco di... Non ho vergogna. Oggi probabilmente ci sono tantissimi che non vogliono assolutamente approfondire e pensare cosa ha voluto Puccini. Questo è diventato quasi una vergogna. Cioè, di... Tanto sappiamo che Puccini ha scritto tutto quello che ha voluto. Cioè, se pensiamo alla Bohème, per esempio, quando lei arriva alla Bohème, ci sono addirittura i tre pizzicati quando lui, Rodolfo, cerca a farla rinvenire, no? A tornare alla vita, dopo che lei sviene. E ci sono le indicazioni. C'è tutto. Puccini ha scritto tutto, tutto, tutto. Oggi c'è un po' la moda di fare tutto il contrario, di non rispettare l'autore, di non rispettare Puccini. Questo non era mai il mio caso e non sarà mai il mio caso, perché io, per me, Puccini è sacro. È sacro lui, è sacro quello che ha scritto. E io cerco di rispettare il più possibile Puccini, naturalmente, dando anche quello che ho da dare io alla partitura. Ovviamente. Ecco, qualche musicologo sicuramente più esperto di me ha parlato di anche un'estrema modernità della partitura musicale di Tosca, addirittura accennando a un inizio di dodecafonia, per esempio, nelle tre note di Scarpia. Lei è d'accordo? Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Assolutamente sì. Sì, è un inizio di dodecafonia e lui presenta anche l'opera così. Si cominciano gli accordi con il light motive di Scarpia e non per niente Puccini dedica un atto intero, cioè il secondo atto lo dedica a Scarpia, lo dedica alla polizia segreta, lo dedica a questo dittatore, e a questo, cioè, immagino che non lo sopporta, ma comunque lo descrive in una maniera straordinaria e lo dedica a un atto. Devo dire solo una cosa, devo dire al pubblico, e anche non solo al pubblico, che a causa del Covid l'orchestrazione di questa Tosca non è esattamente l'orchestrazione di Puccini. Perciò, se qualcuno sente delle cose diverse, non sono io. Nel senso, non è che qualcuno va a dire POM POM PÈ questi accordi terribili, non c'è manco il cimbasso, perché a causa del Covid, a causa della buca che è piccola, o si sta a casa o si studia una versione un pochino diversa per poter realizzare comunque e fare musica e comunicare le grandi emozioni al pubblico. Perciò ci sono delle cose che magari non verranno come Puccini le ha voluti, cercheremo di farli il più possibile e cercheremo anche, io cercherò di farmi aiutare dall'acustica meravigliosa del teatro, certo. Di questa sala, no? Perché mi ricordo di tantissimi anni fa che il problema anche di questa sala è che è molto, molto acustica. Allora, l'organico è un organico un po' diverso. Ricordiamo anche che il nostro teatro ha un'acustica importante perché intanto è stato progettato da uno dei più grandi architetti della storia del progettismo del teatro che appunto il Bibiena e soprattutto è stata pensata con una parte sotto la platea che è dove attualmente c'è un macchinario degli inizi del Settecento che serviva per rottarla su che va da cassa armonica perché sotto c'è un grande vuoto è stata studiata questo meccanismo per il quale si restituisce l'acustica quindi si dice che il teatro comunale sia uno di quelli che acusticamente rendono meglio diciamo tra i vari teatri dell'opera italiana. Ma io penso assolutamente è vero così è un'acustica veramente particolare quella del teatro comunale di Bologna e io spero che da oggi e vedremo cosa succederà cercherò di farmi aiutare da questa acustica meravigliosa del teatro dove c'è la diminuzione addirittura dell'orchestra degli archi eccetera ma penso che il sovrintendente ha fatto... Di quanto diminuisce l'orchestra? Diminuisce, diminuisce cioè ti posso dire per esempio invece di tre flauti ci sono due invece di tre trombe ci sono due invece di quattro coni sono due invece di tre tromboni e cimbasso Quindi sono i fiati a essere sacrificati soprattutto Sì e no sì e no perché sì per esempio i accordi di scarpia che parlavamo prima non c'è il cimbasso che quando cimbasso e cimbasso quel pedale là non lo sentirai mai ma sono due tromboni invece di tre tromboni e tuba ma e tuba e cimbasso e penso che il sovrintendente ha fatto una un'azione giustissima perché invece di stare a casa noi facciamo comunque musica e cerchiamo di farla nel modo migliore possibile Ecco l'attualità del personaggio di Tosca lei se non sbaglio ha parlato di una Tosca comunque proto-eroina femminista forse una delle prime dell'opera lirica se non la prima Assolutamente sì perché penso che è una delle prime eroiste femminine e nella storia dell'opera ci sono tantissime eroine femminine che conosciamo molto importante come Traviata come Rosina come Mimì eccetera eccetera ma penso che sono degli esempi di donna che che rimangono in qualche modo passive e alla fin fine è l'uomo che decide la vita di queste delle donne Tosca è una cosa completamente diversa perché è una cosa è un personaggio meraviglioso è una donna che che lotta su quello che vuole e va fino alla fine non ha paura della morte lei quando si tratta del suo onore non non ha compromessi assolutamente ed è disposta anche di arrivare al punto di uccidere perciò un un personaggio molto molto importante e penso che è un ruolo molto importante molto difficile è un personaggio che non ci vuole solo il canto ma ci vuole una grande attrice ed ecco dove se parlavamo della Raina la Raina non era solo una voce ma era una grandissima attrice e qui abbiamo per esempio la Siri che è una delle soprane più veramente più belle del panorama di oggi è Fatosca alla grande perciò sono molto molto contento io amo molto giocare sui colori in generale orchestra coro fino a un certo punto perché qui non c'è molto coro il Tedeum va cantato in voce diciamolo così ma Puccini una delle cose più importanti di Puccini sono i colori io mi diverto con l'orchestra a giocare e a trovare questi colori meravigliosi e con i cantanti la stessa cosa perciò penso che questa è la mia direzione questa sarà la mia direzione anche in questa edizione qui se tu Maurizio non hai nient'altro io farei un'ultima domanda così andiamo a chiudere e mi riallaccerei all'inizio allora abbiamo visto il teatro vuoto adesso la vedremo in un teatro pieno anche se con un'orchestra ridotta ma probabilmente non sentiremo la differenza grazie alla sua direzione no questo non prometto questo va bene però ce lo auguriamo c'è una certa probabilità c'è una certa probabilità ecco se lei è un augurio che lei lancia al mondo dell'opera dei teatri che tornano a riempirsi perché stiamo vivendo una fase difficile forse ne usciremo presto ci auguriamo qual è il futuro di questo universo secondo lei dove andremo dove andrà l'opera lirica allora quello che riguarda la pandemia io spero veramente come tutti noi che fra uno o due mesi sparisce tutto si torna a quello che abbiamo fatto prima è il mio augurio che si torna almeno che si tornasse alla normalità alla normalità che non sapevamo apprezzare prima assolutamente ci lamentavamo sempre di tutto invece oggi sappiamo quanto eravamo fortunati prima e io spero che saremmo anche ma il mondo sta cominciando veramente a tornare come prima io ho fatto delle recite di Tosca qualche mese fa al Stadzoper di München ed raramente ho visto una sala così piena sto tornando da un Nabucco che ho fatto adesso a Londra la stessa cosa pienissimo il pubblico non veramente ha bisogno ha bisogno di 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 si c'è bisogno di socialità di tornare a teatro esattamente non può rimanere con il bottone a casa a spingere il bottone a casa questa è la distruzione veramente la distruzione per tutti il suo scetticismo per lo streaming la sua paura che diceva prima anche si ma la distruzione anche per i ragazzi perché come voi vedete se andate in una scuola per esempio nell'intervallo cosa vedrete non c'è più dialogo fra nessuno ci sono solo telefonini e ogni ragazzo sta con il suo telefonino e whatsapp gioca eccetera eccetera perciò il dialogo non c'è con questo covid abbiamo peggiorato le cose perché da casa vedi la partita con un bottone vedi l'opera con una la è veramente ci vuole ci vuole ad assolutamente anche quel fatto là di essere insieme di dialogare di scambiare opinioni e poi sentire la musica dal televisore è la stessa cosa come sentirla in teatro viverla in teatro come guardare un quadro di 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 goia non è la stessa cosa andando in museo e guardandolo al computer ciò ma non so se lei adesso mentre parlava mi è venuta in mente c'è una serie televisiva su netflix che si chiama black mirror non so se lei la parla no non conosco beh insomma io conosco un'altra del futuro e fanno vedere appunto tutte queste persone collegate costantemente con la tecnologia interagiscono solo con i cellulari in effetti questo periodo di covid ci ha fatto un po' pensare a veramente la degenerazione che può avere la tecnologia invece il tatto del teatro il contatto del teatro è veramente qualcosa di impagabile io volevo solo chiederle un'ultimissima cosa la sua Bologna come ricorda la Bologna in cui lei è venuto diverse volte a dirigere in quel periodo che va insomma tra la fine degli anni 80 inizio degli anni 90 c'è un posto speciale del teatro comunale di Bologna Biolpuor perché ho fatto qui delle cose molto belle devo dire in un periodo come ha detto lei prima periodo d'oro del teatro che penso che adesso sta ritornando a quel periodo d'oro grazie al sovrintendente anche che siamo molto amici e ci conosciamo da tanti anni da Trieste io mi ricordo che era un'emozione già camminare verso il teatro perché questi arcovoli che ci sono ti danno un senso di protezione è una cosa speciale non c'è al mondo penso questa camminata che facevamo che facciamo tutti ancora oggi andando in teatro sotto questi arcovoli è una sensazione veramente particolare entrando in teatro qui anche con il pubblico molto caloroso molto competente io ho vissuto qui delle cose veramente molto molto belle a parte il livello delle compagnie eccetera ma che l'ultima è stata questa grandissima Fedora con la grandissima Mirella Freni e questa non se la riscorderà nessuno compreso me perché è una delle più belle cose che potevano veramente esistere quella produzione che abbiamo fatto con la Mirella Freni che rimane una delle 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 cantanti della storia della musica dei cantanti più belli che esistono al mondo ha fatto solo quella con Mirella Freni o l'è capitato? a Bologna sì ma se no abbiamo fatto tantissime cose anche tantissime Mimì Adriana eccetera abbiamo collaborato molto anche quando non aveva più trent'anni io ho fatto con lei per esempio la Bohème la prima volta che sono andato a Roma con Bohème perché io ho cancellato tantissime Bohème è troppo difficile Bohème io ho paura quando studio le partiture alle volte ho un attacco di panico e lascio il primo atto lo conoscete è terribile già all'inizio è terribile e io studiavo e lasciavo e cancellavo poi l'occasione con il grande cresci sovintendente di Roma di avere Franco Ziffirelli per la prima volta a Roma al teatro con Bohème edizione quella là fantastica la più bella quella della Scala quella famosa e là c'era Mirella Freni e là c'era tutta sta gente fantastica che era Alagna e Ghiauro Fene e questa era una grandissima grandissima emozione l'Ajdor del teatro italiano con l'internet e poi c'era anche Luciano a Torino abbiamo fatto il centenario e c'era Luciano e Mirella insieme questi grandissimi cantanti e Mirella così umile così carina insegnava ai giovani mi fermava le prove cioè io facevo le prove musicali maestro ti posso fermare mi fermava e ci andava verso i giovani e le insegnava come dovrebbero fare quella frase anche in meno giovani c'era allora la Daniela Mazzucato che era una musetta eccezionale e mi ha interrotto Mirella e ha cominciato a parlare con la Daniela dandogli un personaggio mai visto anche di cuore anche un grande mensch come diciamo noi grande essere umano la Mirella è una grandissima perdita tutti questi grandi una perdita e non so quando tornerà una Mirella Freni non so quando tornerà un Luciano non veramente non saprei perché anche Pavarotti ha fatto diverse produzioni tantissime cose sì tantissime cose quindi c'è la speranza comunque maestro in chiusura di riportare questi giovani strappargli il telecomando strappargli il telefonino a riportarli in un teatro a sentirlo a scoprire l'opera lirica come si può fare? è un grande lavoro da fare perché a casa non c'è più quasi niente perché prima l'educazione dei bambini partiva da casa l'ascolto delle opere della musica classica eccetera partiva da casa oggi mi sembra che non c'è quasi niente poco c'è poco poche famiglie perciò i ragazzi non conoscono niente televisione zero scuola zero come li voi perché devono venire all'opera? sì ci sono delle iniziative che li portiamo anche io a Salerno sto portando i ragazzi all'opera alle prove alla generale eccetera ma non è così facile perché non conoscono questo mondo assolutamente non conoscono si metteranno a ridere appena sentono una voce impostata ma il lavoro va fatto e speriamo di recuperare questi ragazzi io penso che se si fa un certo lavoro molto serio e si porta i ragazzi alla produzione giusta al titolo giusto con i cantanti giusti possiamo recuperare una parte dei giovani ma non sarà facile su queste parole noi chiudiamo intanto diciamo che questa proprio questo è un esperimento che tende ad avvicinare soprattutto anche nuove generazioni perché noi entriamo e parliamo sul digitale è molto importante vedere l'opera non tanto per soltanto in una questione di cultura perché l'opera è proprio bella e l'opera ha una caratteristica più la si vede più ci si appassiona io credo che io credo che i giovani possano invece venire al teatro e che bisogna fare il più possibile anche con delle politiche di incentivo anche economico di fruizione dell'opera e questa cosa noi proviamo a farla e continueremo a farla sempre questo è un modo per conoscere diciamo i protagonisti gli artisti del teatro in un mondo assolutamente meraviglioso e le nuove generazioni possono secondo me possono venire se venissero bene a conoscenza con quello che è il palcoscenico la platea un teatro secondo me non ci sarebbe nessun paragone nessun videogioco nessun strumento è soltanto una questione di accesso che speriamo di darvi questo è il nostro canale youtube il nostro canale instagram ma anche con l'apertura del teatro che apriremo sempre più spesso apriremo il nostro foyer apriremo le prove e noi faremo di tutto ringraziamo il maestro Oren e anche Andrea Maioli che è qui con noi ci hanno aiutato diciamo a comprendere meglio la Tosca e anche la produzione diciamo che faremo nei prossimi mesi e che vi presenteremo ciao ciao a tutti e niente noi ci vediamo alla prossima trasmissione della web tv vi ricordo che la Tosca va in scena dal 29 gennaio al 6 febbraio i biglietti ancora disponibili sono nelle ultime due serate 5 e 6 febbraio perché lì c'è anche un fuori abbonamento e poi inaugureremo la nostra stagione sinfonica l'11 febbraio e questi sono i giorni anche della prelazione sulla stagione di danza che è un'altra cosa estremamente importante anche un dibattito del ministero in questi giorni sta dando di nuovo valore alla danza e al balletto in Italia perché insomma la storia della danza e del balletto in Italia sono storie importanti noi facciamo una stagione di danza che quest'anno abbiamo rilanciato sempre dopo il famoso lockdown sono 4 spettacoli che vi invitiamo a scoprire sul nostro sito quindi state sintonizzate sempre sulle nostre frequenze vi ringraziamo e ci vediamo presto sempre su questo canale iscrivetevi a presto grazie a tutti a presto a presto